Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero Livia, sono gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione Perpetuare il male per garantire il bene La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 E che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso Confesso è stato anche per mia colpa, per mia colpa, per mia grandissima colpa Questo dico anche se non serve lo stragismo per destabilizzare il paese Provocare terrore per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro Come la democrazia cristiana l'hanno definita strategia della tensione Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni Mino e il caro Aldo Per vocazione o per necessità ma tutti irriducibili amanti della verità Tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo E noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta Abbiamo un mandato noi, un mandato divino Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene Questo Dio lo sa e lo so anch'io